Sapete che esiste un modo nuovo per illuminare gli interni? L'Ussibel presenta la sua lastra LED Lucidal. Design gradevole. Pratica. Lucidal è dotata di una tecnologia LED che assicura ottime prestazioni. Un'innovazione che porterà benessere in tutta la casa. Perché a volte è bello anche dimenticarsene. Perché non è assetata di energia. Perché sa prendersi cura del vostro ambiente. Perché non si stanca mai. Perché dimostra talento. Perché l'arte non ha regole. L'Ussibel ha ideato i sistemi lussidali in Francia e li produce in fabbrica utilizzando i migliori componenti per garantire una ottima qualità. I prodotti L'Ussibel sono già in commercio e conosciuti in oltre 40 paesi in tutto il mondo. L'Ussibel oggi. L'illuminazione di domani. L'Ussibel. 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 L'U cosas 찹ate. L'Ussibel. L'Ussibel. L'Ussibel.